È il racconto di un viaggio... Dove siamo finiti? ...in un luogo ignoto. Vedi qualcuno? Vedi a te. Pieno di ombre... Qui sta succedendo qualcosa di strano. ...e di magia. Sì? Dove per ogni enigma risolto c'è una nuova scoperta da fare. Con le voci di Silo... Corriamo, Greg! ...e questina d'avena... C'è qualcosa di strano. Over the Garden Wall. Avventura nella foresta dei misteri. Da mercoledì 1 aprile alle 19.30 in prima TV assoluta su Cartoon Network. Grazie a tutti.